Manchester City, Mandi e le sue notti brave stanno facendo discutere i media, ma Guardiola si preoccupa maggiormente della sua condizione fisica In casa Manchester City stamane si fa un gran parlare del terzino francese Mandi, alle tre seconda nata non certo soddisfacente a causa anche dei tanti problemi fisici occorsi al calciatore Mandi è stato avvistato al club league di Manchester sino a nove ore prima dell'impegno di Premier League nella sua squadra, una notizia che ha un po' scosso il tecnico Guardiola, il quale in conferenza stampa ha parlato del comportamento del calciatore, i miei giocatori sono abbastanza grandi per sapere cosa è meglio fare e cosa no Non sono il padre di Mandi, certo, ripetirei che tornassi a casa prima, ma io non controllo i giocatori quando non devono scendere in campo Non sono frustrato, potrebbe non sembrare così ma vi assicuro che dormo bene. Ciò che importa maggiormente a te è la condizione fisica di Mandi, purtroppo non riesce ad avere costanza, torna e poi sta di nuovo due o tre mesi a Poi ritorna e si ritrova fuori per altre due o tre settimane. Così è difficile. Tuttavia restiamo ottimisti È un ragazzo forte e sono convinto che ci aiuterà fino alla fine della stagione È un ragazzo forte ezie a tutti